Per la diciottesima volta e la quattordicesima consecutiva Fano riceve la bandiera blu dalla goletta verde. Un traguardo affatto scontato nonostante i tanti interventi a tutela della costa e a salvaguardia degli arenili e i tanti milioni di euro stanziati. Non ancora tutto è a posto. Non a caso ci sono alcune zone che non l'hanno ricevuta ma alle quali, visti i lavori effettuati, era scontato non la potessero ricevere. L'impegno da parte dell'amministrazione comunale è ora affinché questo non semplice percorso intrapreso non si interrompa ma anzi riceva un ulteriore slancio sotto la spinta di questo onorevole risultato. Alla presenza delle cariche cittadine, civili e militari e dei funzionari preposti del Comune alle 11 di domenica mattina si è tenuta la cerimonia ufficiale con il vessillo blu issato sul pennone dell'anfiteatro Rastat, sottolineato dalle note della banda cittadina. Sotto un sole coccente, un raggiante assessore al turismo nonché vice sindaco Stefano Marchegiani ha sottolineato la piena soddisfazione per questo traguardo, considerato che Fano fa così l'amplein avendo già conquistato la bandiera arancione e la bandiera verde sul fronte dell'accoglienza. Siamo molto orgogliosi di questo, senza retorica diciamo che è un cammino che continua sempre, la qualità va monitorata, tanto lavoro ci resta da fare lo sappiamo, però ce la mettiamo tutta in collegamento anche con la regione e col governo perché queste sono opere che costano tanti soldi, ricordo il sottopasso di Rio Crinaccio, il potenziamento del depuratore dello stesso Rio Crinaccio che esondava tutto, ricordo la difesa della costa della zona del Metauro Nord, ricordo gli scolmatori che sono stati portati a largo per evitare esondazioni che avrebbero interdetto alla bandierazione in caso di pioggia e poi gli imminenti lavori alla focia dell'Arzilla con la vasca di colmata che anche lì dovrebbero restituire una qualità delle acque alte nelle propaggini proprio del torrente. Quindi lavori strutturali e noi siamo in questa sintonia anche con la FEB che è la federazione appunto che ci segue e ricordo che quest'anno proprio tra una settimana qui a Rasta ci sarà la celebrazione il 16 per la prima volta a Fano del conferimento delle bandiere blu nella regione Marche, quindi una bella festa che durerà fino verso le 23 con spettacoli e colpi un po' di teatro per parlare sempre meglio della nostra città.